Ma come si fa ancora a far pensare a queste persone che ci può essere una riparazione, che lo Stato ci sia, sia presente? Purtroppo la tragedia c'è e non è finita, come abbiamo sentito, come abbiamo visto. Purtroppo ancora oggi persone si ammalano oppure emerge una malattia che già in qualche modo avevano. Dal punto di vista della giustizia è chiaro che ci vorrebbe, si dovrebbe avere giustizia. Qui bisognerebbe chiarire una cosa, il processo non è stato lento in sé, perché la causa è iniziata nel 2009, per cui essere arrivati alla sentenza di Cassazione, purtroppo questa sentenza, in cinque anni, è un tempo basso rispetto alla media e tutto sommato accettabile, chiaro che bisognerebbe riuscire ad accorciare ulteriormente, ma comunque un tempo di gran lunga e inferiore alla media. Il problema è che secondo quanto la sentenza ha stabilito, le ultime azioni criminose risalgono al 1986 e dunque lo stesso procedimento è iniziato 23 anni dopo i fatti. Il problema è che le norme vanno riviste, perché è impensabile che un processo inizi e possa finire per prescrizione. Io credo che non accade in nessun paese europeo. No, no, la prescrizione c'è in tutti i paesi. Ma un processo iniziato io credo che in altri paesi non finisca. Ci sono stati due problemi, che è iniziato tardissimo, perché evidentemente le azioni, perché siamo in un caso anomalo, come diceva, un colpo di pistola che colpisce e uccide a distanza di 20-30 anni, era difficile prevederlo nell'ordinamento. E sottolineo che su questi temi la prescrizione non è cambiata negli ultimi 20 anni, sono gli stessi termini previsti da tempo e in passato non c'erano mai state richieste di cambiarle. Cioè il primo problema, dicevo, è dei fatti, del processo che inizia, la vicenda a livello giudiziario inizia molto tempo dopo che i fatti si sono determinati, anche se ci sono alcuni che dicono che in realtà ci sono state delle azioni criminose che hanno determinato, che hanno posto in essere le cause che hanno portato alla morte e che portano alla morte delle persone. Ma quindi lei ci sta dicendo che era una decisione, come dire, non modificabile, così dovevano andare le cose. La Cassazione, ci sono tante sentenze che uno vorrebbe cambiare. Posso aggiungere una cosa? Che il procuratore ha avviato le indagini su disastro ambientale. Se le avesse avviate sull'omicidio, non l'omicidio colposo, ma sull'omicidio, non ci sarebbe la prescrizione. Il problema è che non si può processare la stessa persona per due volte per lo stesso fatto. Grazie a tutti.